Noi sta cosa la stiamo facendo per i bambini, per il loro futuro. Devo dire che effettivamente qui abbiamo l'assessore Borrazzo e tutta la municipalità di Favaro hanno insistito molto per questa pista, era una vita che si attendeva e semplicemente abbiamo prima efficientato il comune, trovati i soldi, insisto su questo perché continuo a sentire sempre tutte queste proposte di spendere soldi, prima di spendere Bione a provarli. Adesso da Dese continueremo fino alla tangenziale, per cui abbiamo già finanziato come città metropolitana e ci attacchiamo dall'altra parte perché l'idea nostra è di fare un recinto di strada. Grazie a tutti!